A TG Maciotti, oggi vi racconteremo un fatto di bullismo accaduto in questa scuola. Mandate il video. Aiutiamo questi ragazzi a migliorare l'uso dei telefoni. Iscrivetevi al nostro corso per maggiore sicurezza sui social. Intervistiamo la ragazza della lista Noi Siamo il Futuro. Allora, quest'anno abbiamo scelto di raccogliere dei soldi facendo dei mercatini per prendere degli armadietti per la scuola. Noi siamo il futuro, votateci! Noi siamo il futuro, votateci!